Oddio quanti Robux ho ottenuto grazie a questo metodo, non ci credo Lascia like a questo video se ami tua mamma, se non lascia like a questo video non l'ami Quindi lascia like a dire con il video se anche tu vuoi ottenere Robux molto semplice Come prima cosa lascia like a questo video, iscriviti al canale con la campanella, attiva su tutte E commenta nei commenti con il tuo username di Roblox Successivamente fatto, clicca esattamente sul pulsante blu, commenta per confermare il tuo commento Buongiorno a tutti in questo nuovo video, qui Pana Shorts e oggi, come avete letto dal titolo, vi mostrerò un glitch per ottenere Robux gratuitamente su Roblox nel 2023 Però mi raccomando prima di partire con il video se anche tu vuoi ottenere ogni giorno Robux gratuitamente all'interno del tuo account È davvero molto semplice, basta che lascia like a questo video, iscriviti al canale con la campanella, attiva su tutte Poi condividi questo video con tutti i tuoi amici e inoltre commenta nei commenti con il tuo username di Roblox Inoltre è davvero importantissimo, guarda questo video fino alla fine perché ti mostrerò un metodo assurdo È l'unico metodo funzionante per ottenere Robux gratuitamente nel 2023 Davvero davvero facilmente e velocemente grazie a questo tutorial che ti mostrerò oggi all'interno di questo video Dunque ragazzi, inoltre se non siete ancora all'interno del mio gruppo di Roblox Ogni giorno alle persone che sono all'interno regalo davvero davvero tantissimi tantissimi Robux gratuitamente Basta unirvi e inoltre se non l'avete ancora fatto seguitemi all'interno del mio profilo di Roblox Questo qui è il mio nome, Xtanox200k e mi raccomando per tutte le persone che mi seguiranno Esattamente gli manderò la richiesta oltre che regalare Robux gratuitamente Dunque ragazzi, io direi di iniziare subito Mi raccomando, guardate questo video fino alla fine Mi raccomando, lasciate più like possibili per un altro video del genere Condividete questo video al massimo con tutti i vostri amici Infatti ragazzi, il metodo in questione è davvero molto molto semplice Come prima cosa dovete esattamente cliccare il commento che ho lasciato nei commenti In questo caso il mio commento fissato sotto questo video Cliccate all'interno Come vedete ci saranno tutti i passaggi per ottenere i vostri Robux Quindi cliccate esattamente su visita all'interno di quel link Una volta che sarete all'interno di quel link Come vedete vi porterà all'interno di questa pagina Dove come vedete esattamente vi dirà come ottenere i vostri Robux Con sotto le istruzioni Mi raccomando, prima di cliccare il rettangolo Robux gratis, leggete le istruzioni Come vedete una volta cliccato il rettangolo Se vi dirà sito ingannevole o sito pericoloso State tranquilli ragazzi, non preoccupatevi Dovete solo tranquillamente cliccare su dettagli E visita lo stesso questo sito Una volta che come vedete sarete all'interno di questo sito Cosa dovete fare? Dovete esattamente inserire la quantità dei vostri Robux Successivamente dovete esattamente cliccare e inserire il vostro username Come vedete dovete attendere che vi genererà esattamente il vostro codice Per i vostri Robux gratuitamente State tranquilli perché il codice è 100% funzionante Che vi darà E comunque funzionante per l'Italia Essendo che comunque si connetterà al vostro server più vicino E il codice sarà 100% funzionante grazie a questo metodo Infine ragazzi se vi chiederà comunque di eseguire esattamente degli step Dei passaggi Come per esempio completare dei sondaggi State tranquilli è ovvio che ve le farà completare Perché comunque verificherà che non siate dei robot Che comunque il vostro account sia autentico al 100% e sia vostro Quindi basta che compilerete comunque quei sondaggi Quelle pubblicità davvero davvero molto molto semplici e veloce Ci metterete davvero 5 minuti per ottenere comunque i vostri Robux Ovviamente se lo completate tutto otterrete esattamente un altro bonus di 3000 Robux gratuitamente Quindi davvero davvero molto semplice Vedo guardate ora in questo momento quanti Robux ho esattamente nel mio account Infatti come vedete questo metodo, questo glitch, come lo volete chiamare Mi ha funzionato al 100% Mi raccomando condividete questo video al massimo con tutti i vostri amici Per un altro video di questo tipo E scrivete nei commenti secondo voi cosa dovrei comprare con tutti questi Robux Per un altro video di questo video